mi coinvolgi racconta delle storie a nessuno piace assistere a spettacoli noiosi lo sappiamo perfettamente quando siamo spettatori e non dobbiamo dimenticarcelo quando saliamo sul palco o sul podio da protagonisti per non annoiare occorre creare attenzione partecipazione coinvolgimento e il segreto è la passione l'oratore ha il compito di emozionare il pubblico generando e trasferendo energia positiva il trucco essere protesi verso gli altri come gli sciatori per andare forte e stare in equilibrio dobbiamo tenere il peso a valle non a monte utilizza le storie le persone amano a sentirle raccontare fin da bambini costruisci una narrazione attorno ai tuoi contenuti sviluppa dei personaggi crea avventura mistero suspense insomma fa in modo che il pubblico voglia assolutamente sapere come va a finire